da zain benvenuti a questo nuovo video questo nuovo episodio sul finire della della scuola la fine della scuola si chiama questo episodio mi è venuto una un'idea così adesso visto che adesso io sono insegnante finita la scuola è finita per gli allievi è finita per sta finendo insomma per i docenti e per gli altri persone che sono interna scuola e la fine della scuola cosa vuol dire che oggi è una giornata calma piove quindi la gente sarà in casa a riposare e a pensare alle future vacanze estive magari oppure a fare un bilancio dell'anno trascorso con le problematiche che ci sono state la didattica mista il covid la dad insomma tutte queste questioni magari qualcuno fa il bilancio e pensa all'anno prossimo già oppure pensare si è avuto dei dei debiti di studenti che hanno avuto insomma che hanno fatto un po fatica quest'anno e non sono riusciti a raggiungere insomma la soddisfazione di stare calmi tranquilli durante le vacanze di non dover continuare con lo studio c'è cercato di proporre questo modello di scuola scuola estiva scuola che continua anche d'estate come se non ci fosse separazione tra tra le tra il periodo della scuola e il periodo della non scuola come non ci fosse questa separazione tra l'io e il non io che è necessario per crescere cioè necessario che a un certo punto la scuola finisca e che ci sia un'interruzione poi ricomincia non può continuare tutto così a beternum perché se no è diseducativo cioè non si esce più da questa condizione quindi la so la scuola insegna a riprodurre più che a produrre se sempre uguale no bisogna forse introdurre dei muretti che si devono attraversare nelle fasi di lutto anche che si devono attraversare e passare dalla prima alla seconda dalla seconda alla terza e via discorrendo comunque qualcuno farà un bilancio dell'anno io sto studiando filosofia c'è un esame lunedì sto studiando filosofia morale filosofia politica perché sto studiando filosofia mi chiedo anch'io però forse per cercare di imparare qualcosa anche sul sugli effetti dell'insegnamento su come si può insegnare meglio oppure per insomma capire un po di più la realtà che ci circonda metterla un po più in discussione ci sono due tipi di filosofia già studiandolo si comprende una filosofia come quella di Hegel che è giustificazionista che insomma la nottola di Minerva che la sera spicca il volo dopo che le cose sono già successe durante il giorno e quindi ci spiega cosa è avvenuto ci spiega la realtà questo non è che la scuola non deve avere questo valore secondo me anche questa cosa è importante spiegare l'approccio ermeneutico oppure una filosofia come l'aveva definita Strauss, Friedrich Strauss, la lodola quindi la lodola è invece il volatile del mattino che al mattino arriva e comincia a vedere quali sono i problemi da risolvere, le cose da fare insomma quindi un altro tipo, concetto di filosofia quindi trasformativa che cerca di cambiare il reale non di giustificarlo poi uno può aderire anche questo modello più pratico, più non so qual è il modello vincente non è che ho le ricette per la filosofia dell'avvenire qui non siamo le osterie dove si cercano le ricette del futuro come diceva Marx però Marx stesso diceva i filosofi finora hanno spiegato com'era la realtà ora è venuto il momento di trasformarla forse la crisi della nostra società dipende proprio da questo che siamo in questa fase di stallo dove adesso tutti non vedono l'ora che il covid finisca tutti vaccinati quindi i problemi che c'erano prima non ci sono più e adesso si può tornare alla vita normale se quella che possiamo, che stiamo vivendo finora la possiamo considerare la vita normale non lo so, insomma comunque forse anche la scuola dovrebbe proporre dei modelli diversi bisognerebbe un po' cercare di sovvertire lo status quo se non ci va proprio bene quindi forse questo potrebbe essere un insegnamento che la scuola offre oltre l'approccio ermeneutico giustificazionista c'è l'approccio maieutico, socratico insomma di antica tradizione, la tesi, l'antitesi, il metodo dialettico di basare l'insegnamento su un discorso, su un dialogo, su dove ci si confronta e quindi si arriva, si parte dall'ironia come faceva Socrate anche un po' di ironia non guasta poi la brachilogia, cioè fare delle domande di approfondimento per capire cosa l'altro ne pensa ed infine la confutazione, forse la vostra è la nostra tesi si può anche confutare, si può anche cambiare modo di pensare come il parallelismo di Carol Dweck tra persone entitarie che giustificano la realtà sono quelle persone che ti dicono ah cosa vuoi farci, è così, è nella mia natura fare così sono fatto così, non cambierò mai oppure l'approccio si può essere incrementale, cioè vedere che la realtà si può trasformare insomma che il nostro pensiero non è fisso, la nostra personalità non è fissa la nostra identità non è così fissa, può cambiare possiamo trasformarci a trasformare ciò che ci circonda forse penserete che sono un invasato ma insomma questi sono i due approcci filosofici fondamentali una metafilosofia, una metasintesi filosofia, megasintesi filosofica filosofi si possono distinguere in due categorie quindi gli idealisti e i materialisti potremmo dire così che comunque cercano un po' più di agire nella realtà però poi insomma sono definizioni che lasciano il tempo che trovano comunque ecco come si fa a trasformare la realtà forse un po' facendo un bilancio di quest'anno io ci ho provato questa ottica gentiliana di gerarchia basata sul modello insegnante allievo si può provare a sovvertire infatti ci sono degli studi di didattica che dimostrano che la flipped classroom cioè la classe capovolta dove l'allievo fa l'insegnante e l'insegnante fa l'allievo può avere degli esiti felici perché insomma così si scambiano un po' i ruoli, si mette nei panni dell'altro si fa un confronto un po' più paritario benché l'insegnante comunque deve mantenere la sua distante il suo rapporto asimmetrico non può essere... deve far capire che è un gioco è un attimo e poi deve ripristinare il suo ruolo perché se no è un luogo amicale non va bene perché la scuola dagli studenti essendo vissuta come gabbia d'acciaio non si riconosce più l'autorità perché siamo in un momento di crisi di valori e quindi lo studente vive più la scuola dall'aspetto ludico dall'aspetto di amicizie che si fanno più che dall'aspetto dell'insegnamento almeno questo secondo la mia ottica poi per carità ci tengono però l'apprendimento è spesso finalizzato al voto a non avere il debito a fine estate insomma queste cose qua questo non vuol dire che questo modello è sbagliato in assoluto però adesso... fino adesso è l'unico che ancora funziona poi forse... però se ne possono proporre altri perché... cosa vuol dire scambiare il rapporto tra insegnante e allievo? vuol dire che bisogna aderire a un nuovo principio filosofico diciamo che... il... non si può insegnare senza imparare infatti è per quello che io sto facendo filosofia e non si può imparare senza insegnare ed è per quello che io cerco di... no? di... questa è la dialettica edegheliana no? servo padrone il... il servo si rende conto che è essenziale alla fine per la... per la sopravvivenza del padrone perché gli fa tutto quello di cui ha bisogno quindi si rende conto di essere padrone del padrone e a sua volta anche il padrone si rende conto che non... che non può fare a meno del servo e quindi il padrone si rende conto di essere servo del servo quindi scambiando i suoi ruoli forse si riesce ad avere una... una felice sintesi però si rimane ancora nel sistema egheliano cioè non è che basta fare la flipped classroom per risolvere i problemi però è un primo passo è un primo passo verso insomma la disallenazione dell'individuo no? perché l'idea deve poi ritornare in sé avrebbe detto Hegel cioè non so se capite quello che dico sembra che abbia fumato una canna ma non è così e... e quindi... e quindi questo... questo modello può funzionare dove il maestro diventa allievo e l'allievo diventa maestro quindi questo è quello che ho provato a fare quest'anno puoi cercare anche di introdurre delle altre dimensioni nella scuola oltre che quella didattica, no? per esempio educazione civica forse perché bisogna formare un po' più di coscienza politica Aristotele diceva che l'uomo era un animale politico quindi c'è anche questa necessità quelle regole che impediscono di... di Galateo che impediscono di parlare di politica a scuola sono sbagliate non dico che uno deve dire vota per quel partito piuttosto che... cioè non è questo però introdurre qualcosa che avvicini un po' più gli allievi alla coscienza civica la coscienza politica perché ormai c'è una disaffezione totale alla politica può essere una buona educazione civica anche educazione alla consapevolezza della cittadinanza per esempio io ho parlato delle tecnologie dei pericoli insiti nelle tecnologie questa dipendenza che abbiamo dalle tecnologie dove anche i bambini se non un cellulare che praticamente è uno simbolo è uno status symbol, no? che... chi non ha il cellulare è escluso questo non so se si capisce quindi io sono dentro il sistema per cercare di rodere un po' il sistema non è che ho tanto successo però questi sono i miei stimoli comunque provo anche a farlo a livello educativo con esiti a volte anche positivi però poi c'è anche lo studio che è importante quindi adesso io ritorno a leggere il mio libro e vi saluto sul finire della scuola grazie a tutti